Gabriele Maruotti è uno dei grandi protagonisti di questa partita, un 3-0 fin troppo facile anche osservando il punteggio? Alla fine sì, ma in realtà i valori in campo secondo me non sono proprio stati rispettati, ci aspettavamo di fare molta più fatica e probabilmente domenica sarà così, loro oggi hanno fatto tanta fatica in ricezione e quando è così le cose vengono più semplici. Voi comunque è bene in tutti i fondamentali anche sotto l'aspetto caratteriale? Sì, noi bene, insomma ci stiamo allenando con serenità nonostante il periodo che stiamo passando con società e tutto il resto, cerchiamo di non pensarci, non ci stiamo pensando e quindi insomma quello non riguarda noi, noi entriamo in campo e giochiamo. Siete un po' la bestia nera di Città di Castello perché tre partite e nemmeno un set concesso? Sì, evidentemente sì, speriamo di continuare ad esserlo e vediamo domenica come sarà. A livello personale come valuti questa stagione che ancora chiaramente non è finita? Ah no, assolutamente positivo, io sono contento, peccato perché insomma stiamo giocando per il quinto posto ma probabilmente aveva vinto la migliore e l'ha dimostrato anche contro Piacenza. Niente, adesso finiamo questa stagione e poi vedremo.